Un sindaco in esilio, il primo cittadino di Casa Canditella Giuseppe D'Angelo a cui il Tribunale del Riesame dell'Aquila ha imposto il divieto di dimora. D'Angelo oggi risiede a Francavilla al mare e non può rientrare nella sua Casa Canditella, dove è ancora primo cittadino. Il tutto perché su di lui grava un'inchiesta da parte della magistratura per una presunta corruzione nell'inchiesta sugli appalti dell'Unione dei Comuni delle Colline Teatine. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, che è stato anche il legale del primo cittadino di Casa Canditella, ripercorre le tappe giudiziarie fino ad oggi e annuncia la manifestazione di domani a Casa Canditella a supporto e a sostegno del primo cittadino. Il sindaco D'Angelo è stato indagato per una presunta corruzione. È stato prima agli arresti domiciliari, abbiamo richiesto la scarcerazione. In una prima fase mi sono occupato da avvocato di questa vicenda, abbiamo chiesto la scarcerazione, è stato concesso questo provvedimento, però è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Abbiamo fatto notare con un ricorso in Cassazione che l'interdizione per legge non può essere data ai sindaci, che sono espressioni della volontà popolare. Nella magistratura non si può sostituire la volontà popolare, ripeto, come previsto dal codice di procedura penale. A quel punto quindi la Cassazione ha accolto il ricorso, ha rinviato allo stesso tribunale il riesame per riconsiderare la misura e con grande sorpresa il tribunale il riesame ha dovuto necessariamente revocare l'interdizione, ma che cosa ha fatto? Ha disposto il divieto di dimora, cioè impedisce al sindaco D'Angelo di tornare nella sua Casa Canditella, cosicché lui può stare in qualsiasi parte del mondo oggi, ma non può tornare nel comune che amministra. È una vicenda paradossale perché se la legge impedisce alla magistratura di disporre l'interdizione qualsiasi persona capisce che questo provvedimento non fa altro che aggirare la stessa normativa. Poi su che base? Su nessuna base perché ad oggi il sindaco D'Angelo è assolutamente innocente, visto che è solo indagato. Io sono convinto della sua innocenza, anche perché ho letto le carte. E' stato dimostrato inconfutabilmente che non ha mai preso neanche un centesimo. E' stato dimostrato inconfutabilmente che la ditta che dovrebbe essere la ditta corruttrice non ha mai vinto una gara d'appalto a Casa Canditella, quindi un castello di accuse che verrà sbontate nel processo di merito che ci sarà e quando ci sarà. Però oggi in via cautelare questo sindaco viene di fatto impedito dalla magistratura di esercitare la sua funzione nonostante tutti gli siamo vicini, nonostante tutti quanti siamo convinti della sua innocenza, nonostante il paese sia intorno a lui. Quindi domani manifesteremo insieme a altri sindaci in fascia di articolore, andremo a Casa Canditella dove non potrà essere il sindaco D'Angelo, andremo noi altri sindaci per questa manifestazione e contro questo provvedimento che non ci sembra assolutamente equo.